Sono stazionarie ma permangono comunque gravi le condizioni di salute dell'uomo rimasto ferito giovedì pomeriggio nell'incidente stradale sulla SS 115 Vittoria Gela all'altezza del ponte di Rillo. Il suo stato di salute è apparso da subito il più delicato e ha indotto i medici del Guzzardi a ricoverarlo in rianimazione e a riservarsi la prognosi. Prognosi riservata anche per il conducente della seconda vettura coinvolta nel drammatico scontro frontale. Anche lui ricoverato al Guzzardi mentre altri due feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Gela con prognosi di 10 e 30 giorni. Dal nosocomio vittoriese purtroppo i medici non lasciano trapelare nulla né sui gravi traumi riportati dall'uomo né sulla sua età non permettendoci di esercitare il nostro dovere di cronaca. Al momento pertanto tutto quello che si sa è che nel primo pomeriggio di ieri per uno dei due conducenti è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso nel reparto di rianimazione del cannizzaro di Catania. Le dinamiche dell'incidente lo ricordiamo sono al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Il violentissimo impatto ha ridotto ad un mucchio di lamiere una Fiat Bravo che procedeva verso Gela e a bordo della quale viaggiavano tre uomini e una Peugeot 206 che viaggiava in direzione opposta e sulla quale si trovava solo il conducente. I quattro sarebbero tutti originari di Niscemi di età compressa fra i 20 e i 44 anni.